Alvei dei fiumi invasi da detriti, alberi e tronchi trasportati dalle acque in una condizione preoccupante in caso di forti precipitazioni, del resto la storia recente insegna. La situazione dei fiumi negli ultimi anni sta diventando critica in quanto la maggior parte dei letti dei corsi d'acqua è ormai ostruita. Una quantità di detriti viene definita fisiologica, trasportata dal fiume lungo il suo percorso dalla sorgente fino a quando sfocia in mare dunque che si deposita nel letto. Una quota di detriti non desta preoccupazione, viceversa assumono maggiore rilevanza i tronchi di alberi che si spezzano lungo i rilievi montuosi e collinari in seguito al maltempo che per un certo tempo seguono il corso del fiume poi si fermano quando trovano un ostacolo, vedi ponti, tronchi che andrebbero assolutamente rimossi. Ed ecco la foce del fiume Sangro con immagini che documentano l'enorme quantità di detriti che impediscono il corretto flusso delle acque. I sindaci di Fossacesi e Torino di Sangro in una nota congiunta hanno chiesto alla regione Abruzzo un immediato intervento per evitare il peggio. Ultima manutenzione straordinaria ben cinque anni fa il sindaco di Torino di Sangro Nino Di Fonso. È ostruito, è ostruito, guarda vedete si vede ma anche su questo ponte nuovo se vedete ci sono quindi se gli alberi si andranno ad accumulare ci sarà un pericolo. Ecco, non scordiamoci che qui vicino c'è un campeggio anche. C'è un campeggio, c'è di tutto. Siamo una zona turistica e quindi io come sindaco ho il dovere di segnalare le criticità che c'è nel mio territorio. Preoccupato? Molto preoccupato perché da quella nota non abbiamo visto nessun funzionario che si è attivato. Quindi speriamo che si attivano più presto.